Ciao, io sono Marianna di Grasruzzi Italy e sono qui con Ornella e Giulia. Di quale associazione fate parte? Facciamo parte dell'associazione Aduraduno, un'associazione di educatori professionali. In particolare in questi anni l'evento principale che curiamo con la nostra associazione è proprio un evento di incontro e formazione per educatori e per operatori sociali proprio perché c'è questa necessità nell'ambito educativo di trovare dei momenti di confronto tra le persone che lavorano nel sociale. Ok, allora Aduraduno fa parte del network Grassruzzi Italy, no? Sì. Cosa pensate voi del progetto che è stato approvato dalla Open Society Foundations? Sì, è un progetto che noi condividiamo, abbiamo partecipato un po' anche all'ideazione iniziale proprio perché l'ideazione è stata fatta in un momento in cui eravamo presenti un po' tutti come associazioni. È un progetto che lavora sull'intercultura e sicuramente in Italia in questo periodo c'è bisogno di lavorare su questo aspetto. Non so se come associazione avremo la possibilità di partecipare, probabilmente come volontari, adesso insomma vedremo un po' se con i nostri impegni riusciremo ad organizzarci, però sicuramente ci fa molto piacere che sia stato finanziato questo progetto perché ne condividiamo l'idea. Perfetto, grazie mille. Grazie a te.